Argomento obbligato anche oggi il coronavirus, continua la situazione di emergenza di Remo. E allora facciamo il punto, lo ricordiamo, 7 morti, 231 gli infetti in Italia. Per il capo della protezione civile Borrelli non ci sono altri focolai, oltre a quello in Lombardia e quello in Veneto, anche se molti paesi sconsigliano viaggi in Italia. Ieri sera il Premier Conte ha detto di essere pronto a misure straordinarie, si è detto pienamente soddisfatto dal lavoro dei governatori. Partiamo cercando di capire qual è non solo la situazione dell'Italia, ma anche in Europa e nel resto del mondo. A te Antonia. Grazie Valentina, buongiorno a tutti voi. Partiamo da quella che è la Johns Hopkins Map, la mappa internazionale. Vediamo la Cina, il focolaio maggiore sud-est asiatico, 80.147 morti totali nel mondo. 2.699 il numero dei morti e vedete le persone invece che sono guarite, sono 27.661. Vedete la maggior parte dei casi appunto come abbiamo detto in Cina, ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i paesi dove c'è una maggior casistica. Il primo posto appunto la Cina, il secondo posto la Corea, il terzo others inteso come altri che sono quelli della Diamond Princess. E il quarto vediamo l'Italia, segnati 229 persone, anche se come ha detto Valentina il dato dell'Ansas è di 231 casi. Purtroppo il pallino vedete rosso che indica le persone ammalate si è allargato. E vedete come i morti però a volte non corrispondono con i casi di malattia. Ad esempio è il caso questo dell'Iran dove abbiamo in tutto 12 persone che sono venute a mancare mentre troviamo l'Iran solamente al settimo posto della classifica in fausta del coronavirus. A voi. Grazie Antonia, salutiamo Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare dell'Università Campus Biomedico di Roma. E allora questo è il titolo della nazione di oggi. Ci dice come mai l'Italia è il terzo paese per numero di casi con tutte le precauzioni che avevamo preso. Avevamo chiuso i voli con la Cina, preso tutta una serie di provvedimenti che ci facevano sentire sicuri. Ma buongiorno, lo siamo sicuri. Noi abbiamo messo su un sistema di sorveglianza che va ad individuare i casi e li abbiamo individuati. Infatti abbiamo visto due focolai epidemici e non è stato semplice perché molte volte questa sintomatologia è lieve e viene scambiata per un'influenza, viene scambiata per altro. Quindi magari la persona va mandata via dal pronto soccorso perché dice ma no non è questo e invece lo è e va ad infettare le altre persone. Ora mettendo su un sistema di sorveglianza così capillare li abbiamo trovati tutti e infatti non ci sono più focolai. La paura era, io faccio sempre l'esempio del grande incendio, no? Se noi abbiamo due focolai di incendio è facile controllarli e è facile spegnere l'incendio ma se ne ho tanti lungo tutta una foresta è molto più difficile spegnerlo. Ecco, questo sistema ha fatto in modo che non ci siano più focolai quindi siamo stati molto bravi direi. Siamo stati molto bravi e il fatto che non siamo invece riusciti a trovare il paziente zero questo fa la differenza e siamo ancora in tempo secondo lei per trovarlo? Ormai è tardi? No, a questo punto no, è più diciamo per fare studi di epidemiologia posteriori e andare a tracciare l'epidemia. Ormai abbiamo il paziente uno, abbiamo il paziente due, il tre, il quattro quindi la stiamo tracciando, li stiamo trovando tutti. Certo avere il paziente zero ci avrebbe dato una velocità maggiore nel tracciare tutta l'epidemia. L'abbiamo tracciato ugualmente, a questo punto no, non ci serve. Non ci serve. E allora abbiamo al telefono Francesco Barrilli che è uno sceneggiatore di fumetti, si trova a Codogno chiuso in casa con la sua famiglia. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ci racconta queste giornate surreali? Beh, ha detto giusto surreali ma ok, bisogna prenderla come una sorta di riposo forzato. Io qui da casa, la mia voce non può avere un'autorevolezza rispetto all'epidemia o altre situazioni. Posso dire solo che è una situazione in cui bisogna cercare di stare tranquilli, di non farsi prendere dal panico, di recuperare persino il sapore di alcune cose, tipo appunto stare in famiglia sebbene costretti, sebbene non per un periodo, come dire, di ferie e cercare di non farsi prendere dal panico. Ecco tutto qui. Le giornate ovviamente trascorrono anche con il televisore acceso, ascoltando le notizie. Stato d'animo dopo aver ascoltato i notiziari, i programmi televisivi? Ma no, le dirò, io forse anche per l'integrazione personale cerco di essere sereno. No, ecco, io penso che da questa situazione, ripeto, la mia voce non può avere un'autorevolezza perché non sono un tuttologo e non amo i tuttologi, quindi non so dire opinioni sulle misure che sono state prese o su quelle che si dovevano prendere. C'è una cosa che è sicura che da questa situazione ne possiamo uscire e ne possiamo uscire tutti insieme, non una volta. Certo, grazie per... Non una volta, quindi recuperando un po' di senso di solidarietà e di comunità. Ecco, grazie per l'ottimismo che infonde, nonostante si trovi in questa situazione. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia e a tutti quelli che ci seguono da quelle zone. Un abbraccio a voi. Arrivederci. Andiamo dal sindaco di Codogno che è collegato con noi via web, Francesco Passerini. Buongiorno. Allora, come vi state attrezzando, soprattutto per dare la possibilità a chi è costretto, come il signor Barilli, a vivere dentro casa, a portare medicinali, oppure la spesa e quante sono le persone che sono al lavoro per garantire i servizi essenziali? Beh, sicuramente, bene, anzitutto buongiorno. Sicuramente sono tante le persone impegnate tra volontari, personale infermieristico, volontari di protezione civile, volontari a titolo generico, che si sono messe a disposizione e si stanno impegnando in questi giorni di emergenza. Abbiamo anche, appunto, stabilito un servizio per la consegna a domicilio con dei numeri proprio all'interno del comune di Codogno, in modo tale per quelle che possano essere le esigenze locali, localistiche, diverse da quelle sanitarie, che ci sono appunto i numeri sia al 112 che il numero istituito da Regione Lombardia, abbiamo appunto messo questi numeri in modo tale da poter sgravare e non sovraccaricare i numeri di telefono per le emergenze, perché appunto queste necessità cerchiamo di coprirle noi appunto con i nostri volontari, quindi la spesa, le medicine, i beni di prima necessità per le figure fragili. Ecco, grazie per questo atteggiamento sindaco, anche perché in un paese che impreda l'allarme, impreda la tensione, voi che siete collegati da quelle parti che state vivendo il problema proprio da vicino, trasmettete serenità a questo selver paese, grazie sindaco. Ma di cosa ci mancherebbe, ma penso che sia giusto, come ha detto anche il mio concittadino che ha parlato prima, non c'è bisogno, non c'è necessità assolutamente di avere nessun tipo di agitazione particolare, ci vuole solo un po' di calma, un po' di pazienza, e come ha detto prima, con un po' di spirito di comunità, tutti assieme, ne usciremo tutti assieme, sicuramente benissimo. Grazie al sindaco di Codogno. No, di cosa, grazie mille a voi. Grazie. Andiamo da Carlotta Ricci, che si trova all'ospedale Sacco di Milano, se non sbaglio. Allora, Carlotta, dacci gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno a voi. Fino a ieri la direzione sanitaria dell'ospedale parlava di circa 10-12 casi accertati, qui ricoverati all'interno del Sacco, con delle condizioni variabili. Da situazioni di salute un po' più critiche fino a situazioni di salute meno preoccupanti. Ovviamente una delle situazioni più seguite è quella del medico dermatologo dell'ambulatorio di Via Pace, che è sotto osservazione in questo momento per i contatti che questo medico può aver avuto. Sembra non aver avuto grandi contatti, numerosi contatti con pazienti, perché ultimamente era stato 15 giorni in Germania e poi 3 in Grecia, e sembra che si sia contagiato proprio nel corso di questi viaggi. Ovvio che in questo momento, sotto osservazione, ci sono gli specializzanti, i medici, gli infermieri, il personale sanitario che lavorano all'interno degli ambulatori. Sentivo che parlavate poco fa di sovraccarico di telefonate. Il pronto soccorso dell'ospedale Sacco è chiuso da un paio di giorni proprio perché è concentrato sull'arrivo di pazienti che manifestano sintomi. Si è deciso da ieri di non somministrare più i tamponi a tutte le persone che siano entrate in contatto con le persone contagiate, ma di sgravare un po' il lavoro. Infatti, i contatti telefonici, il primo screening telefonico è quello che sta riuscendo un pochino a sfollare il lavoro che c'è all'interno di questi centri. Nonostante ciò, anche i numeri di telefono sono intasati. Pensate, solo ieri sono arrivate 300.000 telefonate di contatto per avere informazioni o per denunciare sintomi, più o meno reali che fossero. Nel frattempo Milano è una città a sospesa, c'è una situazione rarefatta e la frase più ricorrente qui è strano vedere Milano così, un po' divisa tra la preoccupazione e l'esorcizzazione. A voi. Grazie, Carlotta. Andiamo a Casal Pusterlengo, dove è collegata con noi via Skype la farmacista del paese, Lela Bicer. Buongiorno, anche lei è stata in isolamento fino a domenica, poi è tornata al lavoro. Com'è la situazione? La farmacia è presa d'assalto? Come avete scorte sufficienti e necessarie per l'intera popolazione? Assolutamente. Allora, ci tengo a precisare che sono dipendente. La farmacia non è la mia. Lavoro dal dottor Ponti e i farmaci arrivano tranquillamente dai grossisti e vadiamo gli ordini giornalmente e vengono riforniti. L'unica cosa di cui c'è penuria, ovviamente, gli igienizzanti mani e le mascherine, ma già da ieri noi abbiamo avuto un piccolo carico di mascherine, quelle semplici, non FFP3, però meglio di niente. Sì, noi siamo stati in isolamento con la mia famiglia questo fine settimana, ma da ieri devo dire che la situazione è tranquilla. Mi sembrava, tranne l'assenza del mercato, un normalissimo lunedì di lavoro in farmacia. Ovvio, ci stiamo tutelando anche noi, l'accesso in farmacia è limitato, serviamo ai clienti da un'apertura di 20 cm dalla porta, però assolutamente tutto normale. Senta, ma suo marito invece è a casa con i figli in quarantena, no? Noi abbiamo due gemelline, lui ha un'impresa di costruzioni, cantieri chiusi da ordinanza comunale, quindi sì, lui è a casa con le bambine. Come si chiamano le bambine? Caterina e Vittoria. Bene, cosa ha raccontato Caterina e Vittoria? Che stiamo a casa in vacanza con mamma e papà e grazie un po' ai social manteniamo il punto della situazione sana perché riesco a condividere con le persone fuori da questa cerchia anche la situazione dei bambini e mi aiutano tantissimo le mie amiche social perché ci vediamo tramite social con le bambine, quindi ci intratteniamo anche così. Grazie, grazie. Buona giornata. Allora, Ciccozzi, chi come le persone che abbiamo sentito abita nelle zone a rischio e come si deve comportare? Quando esce deve utilizzare le mascherine, deve stare ad una distanza di due metri, sono queste insomma le regole? No? Sì, sì, no, io sulla mascherina direi che la mascherina serve più a proteggere gli altri che non hanno l'infezione da chi ha l'infezione, quindi chi ha l'infezione si mette la mascherina e non la trasmette più agli altri. Chi non ha l'infezione la mascherina non la vedo una cosa di necessità. Vedo la quarantena, cioè i 15 giorni stimati come periodo di incubazione dove si va a quarantenare, questo io lo vedo perché si evita l'aggregazione delle persone. Non solo questo, lavarsi bene le mani. Io ho visto che la mughina è arrivata a prezzi quasi incredibili. Basta acqua e sapone, perderci un minuto di più e abbiamo lo stesso effetto. Non bisogna andare in giro con questo disinfettante. Lavarsi le mani, stare a una distanza di, come si dice una volta, quella distanza di tranquillità, quella distanza dove le persone possono colloquiare senza problemi. Un metro, un metro e mezzo di distanza è più che sufficiente e quindi basta, non c'è altra misura. Anzi io direi, e lo dico sempre, se noi andiamo a guardare le statistiche della Johns Hopkins, il 34% delle persone sono guarite. Cioè ci si guarisce da questo virus. Non è un virus incredibilmente che fa morti hanno finito. No. Sì, qualcuno purtroppo, e noi dobbiamo evitarlo. Ma ci si guarisce. Salutiamo Elia Del Miglio, sindaco di Casal Pusterlengo, che è collegato con noi il telefono. Buongiorno. Salute a tutti, buongiorno a tutti. Anche il suo paese è uno dei focolai della malattia. Che cosa si sente di raccontare, di dirci? Sì, guardi, Casal Pusterlengo, uno dei comuni della zona rossa, ho sentito prima il collega Francesco Passerini. Il territorio sta vivendo un po' in maniera unita questo momento. Chiaramente tutto ci ha preso un po' la sprovvista, perché mai ci saremmo aspettati appunto di vivere in questa situazione, però, devo dire che la stiamo gestendo al massimo delle nostre potenzialità. Per cui, come è stato detto prima, chiaramente chiediamo alla cittadinanza di essere responsabile, di non appunto creare situazioni di panico, di non creare allarmismo. È giusto, voglio dire, preoccuparsi, ma in qualche modo ci sono tutte le strutture, c'è pura sanitaria, di protezione civile che può in qualche modo assistere a tutte le richieste, tutte le esigenze. Ma lei è così tranquillizzante per il fatto che è sindaco, quindi sente un dovere di responsabilità o davvero siete tutti così tranquilli e comunque convinti che poi passa e anche in fretta e Stati Uniti? Ma no, guardi, ovviamente è inutile negarlo, c'è preoccupazione perché in qualche modo stiamo assistendo chiaramente al numero dei positivi che aumentano, però ovviamente siamo in contatto con qualche persona che è risultata positiva, che sta bene, che è a casa, che non ha sintomi, quindi ci affidiamo, voglio dire, alle competenze mediche, che sono i tali virologi che ci stanno in questi giorni dicendo che è un'influenza, è un virus, voglio dire, guaribile. Ci piace chiaramente per le vittime che in qualche modo sono capitate, una di queste, la signora Giovanna, residente nel nostro comune, ovviamente che hanno tutti già sintomi, già patologie pregresse, però ecco ci affidiamo alle competenze mediche di quello che dicono i dottori. Grazie per questa testimonianza sindaco, grazie. Grazie, grazie mille, grazie Cozzi per essere stato con noi.